Abbiamo sicuramente cambiato passo e sotto gli occhi di tutti, abbiamo adesso da quando è tornato appunto il mister abbiamo penso una chiara identità di gioco e sicuramente anche le motivazioni che abbiamo tutti quanti dentro di noi ci stanno spingendo per raggiungere appunto l'obiettivo prefissato. L'amarezza per il pareggio di Castellammare di Stabia alle spalle, ora c'è un altro team campano sul delicato cammino della Fidelisandria che insegue i play-out, si tratta dell'Avellino Alberto Savini, portiere pronto a tornare tra i pali bianco-azzurri dopo il turno di stop che lo aveva tenuto fuori dai giochi almenti, mette da parte l'1-1 del sabato di Pasqua e crede ancora nella possibilità di raggiungere la salvezza attraverso gli spareggi come già successo nella scorsa stagione. Io ero lì a Castellammare a vedere la partita e sicuramente ce l'amaro in bocca perché potevamo ottenere molto di più rispetto a quello che abbiamo ottenuto, però è comunque un punto fuori casa che prosegue il nostro cammino, ci dà comunque motivazioni per affrontare al meglio la partita di domenica. Di fronte domenica al Degli Olivi ci sarà un avversario che ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite e che si trova a due lunghezze dal decimo posto, quello che oggi vale l'ingresso in zona play-off. Viene da svariati risultati negativi che però sicuramente ce la metterà tutta per raggiungere gli obiettivi che hanno, quello appunto di entrare nei play-off e quindi ci aspettiamo comunque una gara molto impegnativa. Trenta sono invece i punti della Fidelis, passati per 36 giornate di campionato e per ben quattro gestioni tecniche. Dopo l'avvio con Cudini e gli arrivi di Dudu prima e Trocini poi, in panchina è tornato l'allenatore di Porto Sant'Elpidio, con l'ex difensore dell'Ascoli alla guida, sono maturati nove punti nelle ultime sei partite. Aver cambiato quattro allenatori nel corso di un anno non ha aiutato quello che è il nostro cammino. Le cose che non sono funzionate, è evidente, sono parecchie, però nulla è perduto e abbiamo ancora modo di salvarci. Domenica, con fischio d'inizio alle 17.30, l'Andria non ha mezze misure. Può solo vincere per continuare a sperare nel sorpasso alla Viterbese, oggi ultima ex equo, e di contenere le distanze dal quintultimo posto, entro le otto lunghezze, quelle che oggi separano dal Monterosi. Fondamentale, assicura Savini, sarà. La stinta del nostro tifo è molto importante nelle gare in casa, ci dà quella marcia in più e quelle motivazioni in più per poter far bene e avere sempre il coltello tra i denti. è il dodicesimo uomo che abbiamo sul campo, spero che siano davvero numerosi di domenica.